in questo piccolo video tutorial vi mostro come si scarica si installa l'applicazione di drive per pc e come funziona così un po a grandi linee allora una volta che siamo dentro la cartella di drive vediamo oltre a tutte le cartelle file che vi sono contenuti sulla sinistra ci sono c'è un menu con le varie funzioni e in fondo osservo che c'è un pulsante che dice scarica drive per pc quindi devo cliccare qui devo cliccare qui e mi esce una pagina dove posso fare il download dell'applicazione che mi installa drive quindi clicco su download qui accetto di installare google drive quindi accetto install e si scarica l'applicazione quindi è un file da salvare si chiama google drive sync.exe quindi lo devo salvare da qualche parte e poi lanciarlo ora io in questo computer l'ho già installato comunque una volta che è stato scaricato basta fare doppio clic sul file e seguire la procedura di installazione bisogna quando si installa bisogna essere collegati a internet perché l'installazione ha bisogno di scaricare da internet un po di materiali e una volta che è stato installato dovrebbe comparire da qualche parte una icona che vi fa capire che è stato installato per esempio questa icona dove dovreste vedere questo simbolo con un triangolo con un lato verde blu e giallo a questo punto una volta che la google drive è stato installato e lanciato ci ha fatto partire lo noterete qua nella barra delle applicazioni vedrete che c'è questa icona con questo triangolo con i lati dei tre colori quando vedete questo simbolo vuol dire che google drive è attivo è in funzione quindi sta sincronizzando il materiale che è online sul vostro computer o l'ha già sincronizzato anzi se io vado sopra col mouse mi dice vedete google drive sincronizzazione completata quindi lui ha già nel mio caso ha già sincronizzato tutto google drive con questa applicazione vi permette di avere sul computer tutto quello che è online ecco dobbiamo ricordarci che online c'è sempre tutto quanto sul computer invece ci può essere tutto o una parte di tutto il materiale come faccio a decidere quali materiali avere sul computer e quali no allora una volta che è stata installata l'applicazione io posso andare sulle preferenze quindi andate qui sull'icona di google drive ci cliccate sopra ecco compare un elenco degli ultimi file che sono stati sincronizzati e vedete c'è anche un pulsante per aprire la cartella di google drive quella quella sul web e quella sul vostro computer per cui se non sapete bene dove sono queste cose andate qua e avete i due link la cartella google drive sul computer e la vostra diciamo spazio google drive sul web dopo vediamo questi allora questi tre puntini in alto a destra sono le impostazioni cliccate qui vedete si può anche chiudere google drive esci ma noi andiamo su preferenze allora sulle preferenze vedete ci sono le opzioni di sincronizzazione si può decidere se sincronizzare tutto e quindi tutto quello che è online verrà anche scaricato copiato sullo spazio del pc oppure posso dirgli solo alcune cose allora se attivo questa questa questo pulsante vedete mi fa vedere tutte le cartelle che sono online e io posso decidere quali avere sul computer quindi per esempio che ne so la cartella mp4 voglio che sia solo online e non sul computer tolgo la spunta e allora lui mi sincronizzerà tutte le cartelle tranne questa che mp4 anzi adesso vi faccio vedere per questa cartella io ce l'ho io ce l'ho in teoria ecco vedete che è qua questa qui ok adesso io adesso dico a google drive di allora ecco di applicare questa opzione quindi dico applica lui mi dice attenzione la cartella mp4 verrà rimossa da questo computer vuol dire che la rimuove dal computer ma comunque rimane online gli dico continua allora adesso attenzione ci metterà qualche secondo tra un po forse dovrebbe scomparire questo questa cartella ah no aspetta questa è quella che ho online quindi questa deve rimanere ok ho sbagliato io dovrebbe scomparire quella che ho nel mio computer allora andiamo a vedere qua e mi pare che sia anche già sparita se guardate le cartelle da queste cartelle che ho nel computer corrispondono a queste che che sono online ok e la cartella mp4 di qua non c'è più se voglio ripristinarla basta che torno qui clicco su preferenze e riattivo la cartella mp4 adesso non lo faccio perché contiene dei di video poi un po ci mette un po a sincronizzarle comunque funziona così ok se se voglio ecco come faccio a capire se google drive ha sincronizzato non ha sincronizzato beh innanzitutto basta andare sopra col mouse sul simbolo lui mi dice cosa sta facendo in questo caso mi dice sincronizzazione completata se vedete che il simbolo ha i colori belli nitidi ed evidenti vuol dire che tutto bene se lo vedete un po sbiadito vuol dire che è bloccato non ha sincronizzato sta lavorando e quindi vedete se per esempio non vedete che il file o la cartella che avete caricato non viene sincronizzata si può chiudere e riaprire in genere faccio così chiudendolo e rifacendolo ripartire in qualche modo lo forzo a sincronizzare la nuova cartella i nuovi file che ho messo o online o sul pc quindi perché la sincronizzazione riguarda entrambi i versi per cui google drive mi scarica quello che è online o mi carica quello che ho messo sul pc e me lo carica online quindi quando dico sincronizzazione intendo diciamo rendere uguali le cose su entrambi sia nel online sia sul computer vedete che le cartelle hanno una spunta e anche i file hanno una spunta verde quando compare quella spunta verde vuol dire che il file è stato sincronizzato quando non compare nessuna spunta può darsi che il google drive non sia attivo o non stia sincronizzando quindi c'è qualche problemino o comunque magari non è stato attivato google drive quando sta sincronizzando compare una doppia freccia adesso vi faccio vedere carico trascino questa immagine qua dentro allora eccola qua vedete compare la doppia freccia per dire che lui sta caricando vedete che ci mette un pochettino a caricare per questo un file un'immagine un file un po più pesante e quindi sta caricando ecco adesso ha finito e compare la spunta verde quindi questo mi permette di capire quando sta sincronizzando e quando ha finito di sincronizzare questa cosa questo programmino lo posso installare su tutti i dispositivi che possiedo quindi sullo smartphone sul tablet sul pc sul notebook e posso decidere su ogni dispositivo quali cartelle sincronizzare e quali no ricordiamoci sempre che online c'è tutto quanto e su ogni dispositivo può esserci una parte del tutto questo questo